Ciao, benvenuti in un altro episodio di Weird Stuff In questa puntata argomenterò rapidamente sul tema della Sacra Sindone in particolare su due libri Verdetto sulla Sindone, K.E. Stevenson G.R. Habermas della Queriniana del 1982 Sono decisamente due libri ottimi fonti a sai migliori di quello che si trova in internet su vari siti che spesso spacciano disinformazione Ed indagine su un antico delitto M.G. Siliato edizione IPM del 1983 Capiamoci subito Se siete interessati a questi temi io vi consiglio di comprare questi due ottimi libri e leggerli In questo podcast non vi dirò per file e per segno perché a mio avviso La Sacra Sindone è molto probabilmente il telo funerario che avvolse Gesù e sul quale è rimasto impressionato in negativo l'istante della resurrezione Posso dire che dal punto di vista storico la Sindone ha una lunghissima storia che sta ricostruita con meticolose ricerche di biblioteca La cosa sorprendente è che nonostante per vari anni si perda traccia della Sindone i pollini che sono impregnati sul telo e che sono stati osservati con microscopi elettronici dimostrano che la Sacra Sindone proviene dalla Palestina è stata in Turchia poi in Egitto è stata trasportata in Francia e poi è giunta a Torino Difficile per un falsario medievale raccogliere i pollini di queste aree dato che le particelle s'osservano solo con microscopi elettronici Il telo della Sacra Sindone ebbe a subire dei danni in un incendio in età medievale Fu rabberciato dalle suore clarisse Questo particolare non fu tenuto in nessun conto quando fu prelevato un campione sindonico per l'analisi al carbonio C14 il cui esito collocò correttamente la pezza del telo da cui era stata estratta la piccola porzione per l'analisi al C14 correttamente in epoca medievale è stato anche poi dimostrato che scaldando un contenitore d'argento con dentro un panno di lino contenente oli essenziali tipici del rito funerario ebraico la temperatura può indurre una cessione di atomi di carbonio arricchendo le aree del telo di lino che sono a contatto diretto con la teca d'argento il telo ha iniziato a diventare un mistero quando fu fotografato per la prima volta in 1898 e poi nel 1931 fu immediatamente chiaro al fotografo e lo sviluppo del negativo che il telo di lino era un gigantesco negativo fotografico osservando la sindone inverso ossia osservando il negativo della fotografia era possibile vedere un positivo con moltissimi più particolari di quanti se ne potessero scorgere osservando il telo direttamente ad occhio nudo oppure sviluppando nel suo positivo come era possibile realizzare un dipinto in negativo nel medioevo se non esistevano ancora le macchine fotografiche e mancava il concetto di positivo e negativo di una foto? nel 1978 un team multidisciplinare dei JPL con strumenti della NASA studiarono la sacra sindone con potenti microscopi e altri apparati di precisione per farla corta e breve sul telo di lino sono presenti tracce maticomane ed una larga parte di siero ossia plasma cadaverico sono visibili tutte le ferite alla passione del Cristo corona di spine fusticazioni nelle spalle chioli nei polsi e nei piedi ferite al costato e monete romane sugli occhi oltre ai vari e infiniti lividi per gravi e violenti percosse sono poi presenti sul telo sindonico tutta una serie di essenze ed oli profumati che hanno impregnato il telo e che sono coerenti con il rito funerario ebraico poliando appunto il feretro il sangue impregnato nel telo di lino ha macchiato in modo lieve solo le fibre superficiali il modo in cui questo è accaduto è davvero stupefacente e ha colpito in modo profondo tutti gli scienziati dei JPL che studiarono nel 77-78 la sindone è stata lasciata un'informazione tridimensionale sopra le fibre di lino difficile trovare monete romane proprio esattamente nel 33 d.C. visto in epoca medievale data la bassa mobilità delle persone e la scarsa possibilità di fare ricerche ancora più difficile dipingere in modo tridimensionale era impossibile nel medioevo produrre una scultura tridimensionale dato che le prospettiva in due d ancora doveva essere inventata figuriamoci se poteva essere un corché concepita o immaginata una pittura tridimensionale dipingendo a mano in modo impercettibile e superficiale riuscendo a mano libera a dipingere nella dimensione dei micron lasciando anche un'informazione tridimensionale su piccole porzioni di filo un filo sì e un filo no un filo sì e un filo no nel tessuto senza che la mano umana abbia microscopici movimenti o gesti inconsulti già da questo si capisce che la tridimensionalità della informazione presente nelle fibre esclude che possa trattarsi di un praticamente un falso costruito d'arte nel medioevo le tracce ematiche sui fili sono su punto superficiali non hanno impregnato il telo ma solo piccolissime porzioni di fili quasi come se il corpo fosse passato attraverso il telo dissolvendosi e poi le tracce ematiche e di siero cadaverico fossero state cotte e fissate da una grossa emissione di energia che istantaneamente contemporaneamente ha fissato l'informazione 3D lungo porzioni impercettibili di fili di lino questo è più o meno il meccanismo biochimico che i professori del JPL nel 1978 ebbero a concludere su come fu diciamo impressionata l'immagine sindonica ancora più strano è che appunto questa immagine sia in negativo cioè questo rilascio potenziale di energia abbia impressionato appunto come un negativo il telo ma la vera informazione la si vede diciamo invertendo i colori appunto come se fosse un negativo ed osservando il telo con strumenti che colgono la tridimensionalità delle informazioni contenute nelle microfibre due libri terminano ponendo un quesito che tipo di esplosione o di energia ha permeato le fibre boh quindi in sintesi il telo sindonico data la sua storia perfettamente compatibile con le sue tradizioni le tracce storiche e le prove dei pollini presenti nel telo ne attestano la perfetta plausibilità storica considerando tutte le ferite che sono perfettamente coerenti con la tradizione della passione del Cristo considerando il campione di tela estratto per l'analisi di C14 che è stato diciamo estratto senza tener conto della storia del telo e dei rabberci fatti dalle clarisse considerando la presenza di sangue e plasma umano considerando le anomali informazioni tridimensionali registrate ed impressionate nelle micro fribrile di lino com'è possibile che un cadavere rilasci istantaneamente un grande impulso d'energia grazie a tutti Grazie a tutti.